iniziare ok, allora, buongiorno oggi, sebbene con un briciolino di ritardo parliamo di questo argomento che ci tiene occupato tutta la mattinata javascript nel browser giustamente nello scorso laboratorio, giovedì scorso, qualcuno si chiedeva va bene, ma adesso ho fatto la mia pagina, vorrei rendere un po' dinamica come faccio a metterci un po' di codice javascript, eccetera oggi parliamo esattamente di quello ed è quello che farete nel laboratorio tra due giorni, dopo domani quindi vediamo come portare il javascript nel browser prima di tutto lo facciamo in maniera molto manuale cioè oggi vediamo un approccio molto manuale che è appunto quello che proverete giovedì in laboratorio e poi dalla prossima volta cominceremo a parlare di qualcosa che ci possa aiutare a fare le cose in maniera un po' più, come dire, sistematica concentrandoci solo sul codice della nostra applicazione e così via senza dover andare effettivamente a usare tutti i metodi di basso livello di manipolazione della pagina, del DOM, eccetera che vedremo questa mattina però almeno una volta li vediamo nel corso quindi, tanto le slide le avete, inutile che prendiamo tempo sulle slide cerchiamo di concentrarci soprattutto sugli esempi vedendo le cose in pratica come si fa a portare javascript nel browser? la faccenda è molto semplice c'è un tag apposta da quando hanno consentito di usare un linguaggio di programmazione c'è javascript nel browser che è script minore, script maggiore nel quale posso scrivere direttamente il codice oppure, molto più comune, caricare un file un file che contiene il codice javascript e quindi andiamo a caricare localmente, negli esempi che vediamo questa mattina perché non abbiamo un server web ma quando avessimo effettivamente un server web lo andremo a caricare dal server web esattamente come faremo per il CSS come per le immagini come per qualsiasi altra risorsa presente all'interno del nostro sito dove lo mettiamo? ecco qui cominciano i primi problemi bene il posto più naturale da un punto di vista logico è la sezione head vi ricordate il documento html è composto da due parti principali l'head che contiene tutte le informazioni diciamo così di servizio della pagina e il body che contiene il contenuto vero e proprio quindi nell'head ci verrebbe da dire è il posto naturale peccato però che sia una soluzione molto inefficiente perché nel momento in cui il browser incontra il codice javascript si ferma, non fa più nient'altro carica il codice javascript e si mette a eseguire il codice javascript e in più siccome siamo nel head quindi non abbiamo ancora letto la parte body non abbiamo caricato il contenuto della pagina e quindi nel codice javascript anche se volessimo non possiamo andare a manipolare gli elementi che costituiscono la rappresentazione della nostra pagina perché? perché non è ancora stata caricata dal browser ok? quindi diciamo che dal punto di vista teorico va benissimo ma dal punto di vista pratico è molto scomodo ok? allora quale sarebbe la possibile soluzione diciamo per ovviare a questo inconveniente? beh, il tag script può anche essere messo nella parte body se noi lo mettessimo alla fine della parte body diciamo avremmo risolto molti dei nostri problemi perché? perché il browser ha già letto tutti i tag HTML inclusi quelli del contenuto della pagina e deve solo più caricare il codice javascript e eseguirlo a quel punto il codice ha a disposizione tutti gli elementi della pagina per eventuali manipolazioni, elaborazioni e così via e in effetti questo è esattamente quello che avete fatto in laboratorio la scorsa settimana quando avete caricato bootstrap si diceva il CSS nella parte add e questo va bene il CSS va benissimo lì sono un insieme di regole che saranno poi applicate ma vi ricordate che c'era un pezzo di codice javascript che avete caricato e che dovevate mettere in fondo prima della chiusura del body ok? questo era il posto raccomandato perché? perché così c'era a disposizione tutto il contenuto della pagina con lo stile già applicato eccetera e avevate cioè bootstrap aveva la possibilità di intervenire tramite il codice javascript per fare eventuali azioni relative a quello che ritiene di fare con gli elementi che avete creato appunto col framework ok qual è la scomodità di metterlo in fondo alla pagina? se c'è la soluzione perché non la usiamo beh perché in realtà è un po' scomodo nel senso che devo attendere che lo script sia se lo metto in fondo che lo script sia caricato e poi venga eseguito quindi c'è un periodo di tempo in cui io carico la mia pagina la vedo senza che il codice javascript ci applichi le sue operazioni perché si sta ancora caricando e deve ancora essere eseguito ok? l'alternativa appunto dicevamo che prima durante il caricamento della pagina si incontra nella parte head il javascript lo carica lo esegue ma non ha a disposizione il body ok? e in più c'è questa diciamo fase di attesa che se si potesse evitare sarebbe anche meglio quindi cosa è stato pensato nei browser più recenti come soluzione a questo problema? ci sono due attributi che possiamo usare sul tag script e noi useremo in particolare il secondo che si chiamano async e defer qualcuno in laboratorio diceva ma non possiamo caricare con il defer sì sì possiamo caricare con il defer cosa fanno? allora ci consentono di mettere il tag script nell'head che è il posto logicamente più coerente perché sono non sono contenuti quindi non va nel body il body sarebbe il contenuto della pagina ma sono informazioni addizionali quindi codice per la gestione della pagina il tag async fa sì che lo script venga caricato in parallelo quindi il browser che automaticamente continua il parsing dell'html ma in parallelo carica questa risorsa javascript e però ci fa valutare il codice javascript non appena questo diventa disponibile quindi ha finito il caricamento siccome questo non è particolarmente comodo perché non sappiamo quando il caricamento finisce perché dipende da quanto la rete è veloce quanto ci mette appunto il codice ad essere parsificato e così via questo funziona in tutto ok allora hanno pensato di usare di inventare e mettere a disposizione questo tag defer che rende più deterministica l'operazione ossia il caricamento avviene in parallelo e questo ci va bene scarichiamo in parallelo le informazioni dal server quando incrociamo questa indicazione della risorsa da caricare ma il codice viene eseguito dopo che il documento è stato parsificato quindi quando ho finito il body quindi è più o meno come averlo messo in fondo al body dentro prima del tag chiuso body però il caricamento avviene in parallelo e quindi non ci fa perdere tempo diciamo nella fase di caricamento e in più ci garantisce che gli script vengano eseguiti nell'ordine in cui sono stati caricati quindi se ho messo prima uno poi l'altro viene eseguito prima l'uno e poi l'altro ok quindi non è che quello che arriva prima viene eseguito per prima per primo ok quindi la situazione è sostanzialmente quella che vedete qui sotto mentre il browser legge il codice html a un certo punto incrocia nell'head script defer con una certa risorsa va a caricarsela finisce di caricarsela e quando ha finito di leggere tutto l'html andrà a eseguire il nostro script esattamente nel momento in cui noi vorremmo ok quindi noi in sostanza quando andremo a usare uno script diciamo che lo useremo sempre scritto nel tag add col defer ok e questo lo potete fare per qualsiasi tipo di script incluso quello di bootstrap e così via ok benissimo quindi abbiamo chiarito come caricare il codice javascript nel browser adesso dobbiamo capire come questo viene eseguito e questo chiaramente ci richiede un po' più di tempo prima di tutto dove gira? gira all'interno del browser ma in un ambiente di esecuzione diciamo in scatolato questa scatola di sabbia sandbox cioè che ha delle possibilità di interazione con il resto dell'ambiente abbastanza limitate perché noi questo è il codice che voi scaricate dalla rete da chiunque andate sul sito di chiunque e vi dà del codice javascript e voi lo eseguite localmente sul vostro computer per cui non potete consentire a questo codice di fare qualsiasi cosa di andare a leggere i file sul vostro file system quindi andare a manipolare cose su cioè oggetti sul vostro computer e così via bisogna eseguirlo con una certa cautela e questa cautela è messa dall'ambiente di esecuzione messa a disposizione dal browser ok l'ambiente di esecuzione quindi è diciamo così protetto e in più ci mette a disposizione all'interno del browser una serie di oggetti utili alla gestione del browser stesso in particolare c'è un oggetto window disponibile da tutte le parti nel nostro codice javascript caricato nel browser con il quale possiamo interagire con le funzionalità del browser quindi abbiamo a disposizione una serie di api predefinite ovviamente alla libreria standard javascript nel senso che ci saranno tutti i vari oggetti che abbiamo visto finora cioè se dovete creare un array potete fare new array oppure usare array punto cos'era from ov eccetera tutti quei metodi che abbiamo visto del linguaggio questi chiaramente ci sono ma ci sono due oggetti particolari quello del browser e quello del documento che possono essere usati per interagire col contenuto all'interno del browser e adesso li andiamo a vedere ecco vi faccio notare che è possibile mettere più tag scripts quindi all'interno del codice html noi possiamo mettere più tag scripts e caricare più risorse javascript quindi più programmi avevamo detto all'inizio del corso ogni file uguale a un programma javascript come fanno a interagire tra loro se sono programmi differenti l'unica maniera che hanno in questo momento è di usare lo scope globale cioè di andare a lavorare su un oggetto globale quindi come se fosse una variabile globale condivisa tra tutti i programmi caricati i programmi javascript caricati vedremo poi che c'è una maniera un po' più raffinata di gestire questa interazione che sono i moduli però diciamo per ora non ci servono oggi ci serve solo caricare un unico programma il nostro diciamo oltre a quello di bootstrap ma bootstrap diciamo lavora per conto suo perché lavora più che altro per la visualizzazione del contenuto della pagina e non abbiamo bisogno di interagirci oggi e nel nostro script scriveremo tutto quello di cui abbiamo bisogno in un unico file quindi in un unico programma e quindi per ora questo problema non si pone andiamo a vedere come funziona javascript nel browser allora prima di tutto vi ricordate che javascript è single threaded quindi può eseguire solo un'operazione alla volta può chiamare funzioni eccetera ma finché lo stack di esecuzione ha qualcosa da fare continua a fare quello che sta facendo come abbiamo visto in node uguale identico e allora come facciamo a gestire tutto quello che si verifica all'interno del browser per esempio i vari eventi i click e altre operazioni asincrone di cui esistono centinaia di tipi diversi quando carichiamo dalla rete operazioni di interazione appunto di input output e così via avremo bisogno di avere ben presente come funziona il modello di gestione degli eventi di javascript anche quel event loop di cui abbiamo già visto e l'abbiamo già visto in node che è presente anche nel browser e ricordarci come funziona e adesso proprio per questo vi ricordo come funziona qui trovate il disegnino il disegnino ci dice che c'è il browser questa scatola grigia che beh diciamo questo forse è la sandbox più che il browser l'assemble quindi il luogo dove viene eseguito il codice javascript che ha un call stack quindi il posto dove vengono messe una sopra l'altra le varie chiamate funzioni che facciamo nel nostro codice javascript sincrono quando lo scriviamo in modalità sincrona quando questo call stack si svuota c'è l'event loop ossia un meccanismo che va a vedere se nella coda delle callback che è la stessa che abbiamo visto l'altra volta di node se nella coda delle callback c'è del codice da eseguire prende la funzione la prima in coda la mette nel coste che inizia l'esecuzione e va avanti fino a che questa non termina e va avanti così fino a che c'è qualcosa nella callback queue e poi e poi a differenza di node questo non è un programma a se stante sta in attesa se non c'è niente aspetta non è che vi si chiude il browser node termina l'esecuzione perché sa che non c'è più nulla che andrà a finire nella callback queue invece nel browser il browser rimane in attesa rimane in attesa di un evento asincrono che può essere l'interazione dell'utente con il browser quindi fate click muovete il mouse generate un evento di un qualsiasi tipo piuttosto che si genera un evento in qualche maniera interno un timer che scade per esempio piuttosto che si riceve qualcosa dalla rete ad un certo punto e noi abbiamo una callback registrata per gestire questo evento quindi dobbiamo in qualche maniera dire che cosa fare quando si verificano certi eventi c'è una serie di comportamenti di default dicevamo prima sulla slide che non ho letto ma insomma ci sono una serie di comportamenti di default del browser cioè quando facciamo un click se facciamo un click sul link il browser automaticamente fa l'operazione di andare a caricare la risorsa corrispondente a quel link se però noi facciamo un click in un post qualsiasi nella pagina che non è sensibile al link non c'è nulla di associato il browser non fa nulla quindi ci sono dei comportamenti di default che il browser eseguirà a meno che noi da codici in qualche maniera non li smontiamo li cambiamo oppure possiamo noi definire dei comportamenti quindi del codice collegarlo ad un evento che si verifica nel browser e far eseguire il codice che desideriamo facendo delle azioni all'interno della pagina modificando dei contenuti modificando la visualizzazione e così via se non ci sono comportamenti predefiniti e non abbiamo collegato nostre callback agli eventi non succede nulla quindi il browser non fa nulla ok quindi l'event loop sostanzialmente funziona come quello di node se non c'è niente nella coda delle callback non fa nulla ok nel momento in cui c'è qualcosa nella coda delle callback in ordine nella coda delle callback va a prendere la funzione la mette sullo stack e comincia a eseguirla e fino a che non ha finito non smette non va a prendere la prossima funzione quindi bisogna cercare di scrivere queste funzioni in maniera compatta compatta vuol dire che ci mettano poco tempo ad essere eseguite perché mentre si sta eseguendo una funzione che corrisponde alla gestione di un evento unipresa dalla coda delle callback non si può eseguire un'altra funzione della coda delle callback quindi se ci mette tanto ad essere eseguita blocca le azioni corrispondenti a tutti gli altri eventi che stanno in attesa di essere gestiti ok quindi se io faccio click poi ne faccio un altro rapidamente eccetera l'azione corrispondente a quel click deve essere gestita in maniera rapida con poco codice un codice che si esegue rapidamente e se richiede tanto tempo se richiede tanto tempo noi abbiamo imparato una modalità di gestire queste cose che è la modalità di programmazione asincrona l'abbiamo visto le scorse volte ci facciamo ritornare a una promise e quando la promise sarà risolta la promise metterà in coda quello che noi abbiamo scritto nella resolve una re-reject della promise nella coda della callback e quando il suo turno verrà eseguito ma intanto non blocco l'esecuzione delle altre funzioni nella coda delle callback e quindi non mi si blocca l'interfaccia perché se io blocco l'esecuzione delle azioni corrispondenti agli eventi generati dall'utente mi si blocca l'interfaccia se io faccio un click poi il secondo poi un terzo il secondo e il terzo click non hanno effetto fino a che il codice che ho scritto per il primo non ha finito e l'impressione qual è? è quella che si sia bloccato tutto ma in realtà il browser sta solo eseguendo il codice della prima callback quella del primo click quindi bisogna assolutamente fare attenzione a scrivere bene queste callback ma ovviamente abbiamo tutto il corso per imparare a scrivere bene queste cose ok quindi una chiamata di funzione un event under non è mai interrotto siamo noi che dobbiamo curarci di scriverlo nella maniera più rapida possibile e se richiede tempo di scriverlo in maniera sincrona così che si possano fare le azioni nel momento in cui diciamo vengono effettivamente richieste se noi carichiamo dei dati dalla rete non sappiamo quando arrivano se subito tra un secondo o tra un minuto ok però se noi scriviamo tutto bene noi diciamo scriviamo il codice di iniziare il caricamento subito diciamo carica questa risorsa e poi quando la risorsa sarà stata caricata avremo un altro punto di ingresso nel codice javascript che è la callback che abbiamo passato per esempio con le promise appunto la passiamo tramite quel meccanismo del resolve reject ok e il den secondo se stiamo scrivendo noi la funzione asincrona oppure la funzione asincrona è già data come la fetch che carica della rete quindi siamo noi che dobbiamo agganciare l'evento di resolve reject ma comunque vediamo tutte queste cose l'importante del messaggio è event end da scrivere con poco codice e eseguibile rapidamente e se non è così scriverlo in maniera asincrona ok diamo un'occhiata rapida ai due oggetti importanti che ci mette a disposizione il browser e poi iniziamo a scrivere un po' di codice e quindi a rendere un po' più dinamica quella pagina che abbiamo visto sempre a lezione e quella della tabella con le risposte alla domanda manipolando gli oggetti messi a disposizione all'interno del browser quindi abbiamo detto window va bene e l'oggetto globale può anche essere omesso quando scrivete il codice javascript nella pagina quindi non troverete quasi mai scritto window punto perché è implicito ok documento invece non è implicito rappresenta l'albero del dom caricato correntemente nella finestra e visualizzato ok quindi se noi andiamo a fare delle modifiche a questa struttura queste modifiche verranno immediatamente riflesse nella visualizzazione del browser ok o alternativamente se c'è del codice che fa delle modifiche al dom noi quando andiamo a manipolare il dom ce la ritroveremo come struttura dati modificata all'interno della memoria quindi accessibile tramite window punto document oppure siccome abbiamo detto window è implicito anche come document qualcosa ok ok prima di arrivare a document guardiamo appunto browser object model quindi in window ci sono una serie di proprietà sapete che proprietà in javascript è come dire dei punti di accesso che possono essere oggetti o metodi ok tipicamente questi sono tutti oggetti quindi console che ha la proprietà log che si riferisce a una funzione che scrive sulla console se la chiamiamo document appunto quello di prima history location eccetera quando c'è bisogno ne andiamo a vedere ok ma fattamentalmente noi usiamo i primi due il console e il document quindi history quando ci sarà bisogno history location diciamo ok quindi andiamo a dare un'occhiata così chiariamo un po' le idee allora possiamo aprire anche una finestra vuota tanto non abbiamo bisogno di contenuto console console log ciao ok dove scrive scrive nella finestra della console quindi non è che scriviamo nella pagina se vogliamo interagire con la pagina abbiamo bisogno dell'oggetto document ok console log scrive nella console che nel browser è tipicamente invisibile la vediamo noi sviluppatori perché abbiamo aperto la visualizzazione del browser in modalità sviluppatore quindi andiamo sulla console e possiamo interagire con la console c'è l'interprete javascript di questa pagina che sta girando questa pagina è vuota potevo caricarci qualsiasi cosa è pulito quello che volete cos'è che vuole c'è l'aggiornamento da fare e va bene ok chissà se si carica pulito va bene allora per far vedere in un'altra maniera tools web developer tools ogni pagina ha la sua console ogni tanto ci sono dei messaggi che ovviamente l'utente normale non vede mai ma che noi diciamo perdere e qui possiamo scrivere quello che vogliamo cos'è questo undefined il valore di ritorno di console.log che è undefined perché non ritorna niente non avranno scritto il return il default delle funzioni in javascript che non ritornano nulla è undefined ok va bene dom diamo un'occhiata al dom perché senza il dom giochiamo con i console.log è come se fossimo in node jas ok il dom è una specifica abbastanza diciamo complicata noi guardiamo come sempre le cose più importanti che ci interessano ci sono puntatori per andare a leggere quello che eventualmente può essere utile o approfondire il dom cos'è? la rappresentazione della memoria di il contenuto della pagina qui vedete una rappresentazione discretamente complicata ma non troppo quindi html head title eccetera body che di solito è la parte più grossa perché contiene il contenuto con i suoi vari div div table c'è un elemento table che quindi avrà i trtd eccetera eccetera tutti nella sua struttura d'albero più div cosa che hanno messo qui qui non hanno messo neanche un paragrafo vabbè c'era un div con this link is not eccetera eccetera insomma una serie di altri elementi con un messaggio qualcosa ok tramite il dom noi possiamo con dei metodi che adesso vediamo andare a manipolare questa struttura nella memoria manipolando la struttura modifichiamo la struttura ma modifichiamo immediatamente anche cosa viene mostrato dal browser ok quindi intanto ci sono diversi nodi quindi diversi elementi all'interno del dom cosa vuol dire tipi in realtà noi abbiamo detto che javascript non è che ha le classi no quindi queste in un linguaggio di programmazione di oggetti tradizionali sarebbero le classi non sono classi diciamo sono funzioni lasciatemi dire tipo le funzioni costruttore che abbiamo visto che quindi quando vengono create dal browser mettono a disposizione una serie di proprietà che alcune di queste anzi molte di queste sono dei metodi che noi possiamo usare su su quel oggetto ok quindi diciamo che a seconda del tipo diciamo così dell'oggetto che abbiamo avremo a disposizione alcuni metodi piuttosto che altri ok quindi questa è la struttura che vi dice più o meno quali sono i vari tipi di nodi coinvolti nella struttura del dom fondamentalmente abbiamo il node che è l'elemento di tipo generico specificato meglio nell'html element che l'elemento di tipo html cosa c'è di diverso nel node può esserci un po' di tutto inclusi i commenti eccetera l'elemento html è un tag con qualcosa dentro ok ma questi li vediamo vedrete che è molto semplice mano a mano che ci servono li vediamo con i metodi corrispondenti questi oggetti ci mettono a disposizione dei metodi per manipolare il dom ecco rispetto a questa lista un oggetto un tipo di oggetto che ci interessa molto da vicino è il node list perché molto spesso avremo a che fare con degli array di nodi non usiamo direttamente un array fatto di riferimenti a oggetti di tipo node ma usiamo node list perché è più comodo perché ha una serie di metodi che ci consentono di manipolare la lista di nodi più comodamente aggiungi all'inizio aggiungi alla fine aggiungi allo stesso livello aggiungi a un livello inferiore eccetera funziona più o meno come un array quindi hanno cercato di renderlo simile al classico array javascript quindi ha la propria talent item keys for each potete fare più o meno tutto quello che fate sugli array lo potete scorrere col for off per esempio e quindi ci verrà particolarmente comodo quando andiamo a manipolare a mano il DOM come facciamo oggi quindi cosa facciamo allora per manipolare il DOM ci serve prima di tutto avere il riferimento ad un oggetto da cui partire allora c'è sempre documento nella pagina possiamo sempre partire da documento ma chiaramente è un po' scomodo sempre partire dalla radice dell'albero come dire partiamo sempre da Adamo e Deva per arrivare a noi ok si è vero che tutti discendiamo da Adamo e Deva però insomma è un po' distante come punto di partenza e allora cosa facciamo nell'oggetto documento ci sono una serie di metodi get element o get element o get element eccetera che possono essere usati per andare a recuperare il riferimento dentro il DOM ad un elemento particolare di questo albero ok che noi abbiamo identificato in qualche maniera ok se by id mettiamo un value andiamo a cercare un elemento che ha come attributo id uguale qualcosa che abbiamo inserito nella struttura dell'html quindi quando noi creiamo l'html sappiamo già che nel codice javascript avremo bisogno di fare riferimento a un certo nodo un certo tag dell'html possiamo mettere già un attributo id uguale qualcosa e questo qualcosa possibilmente che sia unico sul document nel documento html cosicché da javascript schiava document get element by id il valore che abbiamo messo che so potrebbe essere non so la lista che ci interessa e e abbiamo un riferimento direttamente a quel nodo nella struttura del dom senza partire dalla radice c'è già quel nodo e quindi se quel nodo lo dobbiamo far sparire vogliamo aggiungere un elemento figlio vogliamo modificare togliere modificare uno dei vari figli eccetera eccetera di lì possiamo su quel nodo chiamare dei metodi che adesso vediamo per andare a fare queste operazioni e queste operazioni sono immediatamente riflesse nella visualizzazione del browser quindi ci sono questi cinque metodi direi che conoscendo questi cinque metodi avete a disposizione tutto tutto quello che vi serve per agganciare un elemento del dom in maniera semplice quindi lo posso fare per id tramite il nome del tag però il nome del tag non è detto che sia unico perché se ho due tabelle se io qui scrivo get elements by tag name table e se ci sono due tabelle mi verrà ritornata la prima tabella e la seconda tabella mi verrà ritornato un node list come dicevamo prima e sono io che devo capire qual è quello che mi interessa era il primo era il secondo eccetera se io metto un id è un po' più facile ricordarsi perché tipicamente l'id cerco di mantenere l'unico mentre le tabelle magari a un certo punto faccio una modifica nell'html metto una terza tabella e il mio codice devo ricordarmi che se ho messo prima la tabella la tabella che era prima diventa seconda eccetera quindi sono tutti questi i soliti trucchetti di programmazione a cui dobbiamo fare attenzione diciamo per cercare di avere meno problemi fare in modo che ci siano meno errori possibili che si possono verificare soprattutto quando andiamo a fare delle modifiche posso andare a recuperare gli elementi anche tramite il nome della classe call8 adesso vabbè call8 forse non è più significativo però che ne so voglio gli elementi rossi e se ho messo una classe che faceva rosso oppure in bootstrap che c'erano i bottoni primary secondari eccetera posso mettere secondary e vado a recuperare il bottone non attivo e si ho usato secondary per il bottone non attivo e così via ok quindi posso selezionare tramite i tag i tag posso selezionare tramite certi attributi particolarli di e posso selezionare tramite un attributo particolare che è class o addirittura qualsiasi cosa esattamente con la sintassi css sapete che css può andare con le sue regole a indirizzare qualsiasi elemento nella pagina posso usare la stessa identica sintassi qui questa è la sintassi ovviamente del solo selettore non c'è la regola questo è il selettore quindi qui posso scrivere tutto quello che scriverei in css quindi il nome del tag piuttosto che punto class piuttosto che cancelletto id piuttosto che mettere un tag con dentro un altro un tag virgola un altro ho tutta la sintassi css supportata ci sono due metodi il primo mi ritorno solo il primo elemento che fa il match con la mia regola il selettore css e l'ol invece è meglio da tutti quindi mi da un nodo list ok nulla di particolare lo vediamo mano a mano che andiamo avanti ma diciamo che avendo questi avete la massima flessibilità possibile diciamo che forse la cosa che è più interessante della lezione un'altra volta il css è imparare a scrivere i selettori perché poi magari vi tornano utili qui ok ecco i metodi per trovare un nodo funzionano anche sui vari element quindi se io non lo applico documento non lo applico un nodo nella gerarchia del DOM quindi nell'albero del DOM cerco faccio la stessa ricerca l'unica cosa è che la ricerca è limitata a quella sottoparte dell'albero ok è abbastanza intuitivo comunque quindi diciamo che io posso andare a prendere un elemento e poi all'interno di quell'elemento fare un'ulteriore ricerca per andare a cercare un qualcosa dentro quell'elemento che so ho trovato la mia table che mi interessa e dentro la table vado a cercare la riga che mi interessa faccio un get elements by che ne so vabbè qui c'è tag name sì che so table header no o il th o cos'è quello il th cos'è e posso andare a prendere quello e non ho più bisogno di dire che sia dentro l'altro perché è già implicito perché se il riferimento è a un nodo del dom io cerco sempre solo sotto quel nodo ok ecco facciamo facciamo un esempio questo potremmo potremmo anche copiarlo ma sì va così facciamo un po' di pratica ok e quindi prendo questo documento molto semplice quindi diciamo facciamo esempio html quindi questo è il documento comunque come si fa qui ok quindi ho copiato quello delle slide e adesso e adesso qui visual studio code è comodo solo per fare l'editing io lo sto usando come un editor di testo però adesso dobbiamo andare nel browser perché io lavoro nel browser quindi devo poi caricare il codice javascript nel browser eccetera oppure fare come faccio adesso lavorare direttamente in console per dare due o tre comandi e fare una prova rapida quindi salutiamo il politecnico e andiamo a caricare dove l'ho messo 2023 2023 tab sembrano 1 wix wix 5 esempio ok nell'esempio non c'era niente divisibile mi sa ok quindi in realtà c'erano dei div vuoti però ci sono non si vede niente ma se io vado a vedere questi div ci sono quindi questi ci sono sono tutti lì schiacciati perché non c'è nessun contenuto però ci sono il browser li ha caricati non ho messo nessun testo non c'è niente che si vede ok però sono lì sono nell'albero del DOM e io li posso andare a manipolare ok quindi se io vado a cercare cos'era document cosa ho messo getelementbyid fu ok posso getelementbyid fu ok mi propone già la risposta di sotto il browser è molto comodo in questo senso se do invio effettivamente mi ritorna il riferimento a quell'elemento siccome la console del browser vuole rendermi la vita facile me lo dà addirittura in una forma esplorabile ok se io l'avessi scritto in node o fossi nel codice javascript questo è semplicemente un riferimento e sopra posso andarci a chiamare i metodi o a leggere le proprietà che mi mette a disposizione quel riferimento a quell'oggetto ok e analogamente posso andare a fare document cos'era gete query no query selector query selector all e ci scrivo del del codice appunto del codice dei selettori css bold color punto bold punto color cioè vanno a ricerca delle classi che hanno o punto bold o punto color quindi me ne vengono ritornate due andiamo a vedere punto bold questa era esattamente la sintassi di selettori css che abbiamo visto l'altra volta ok color ma è punto color ok ok quindi mi ha dato un node list prima era direttamente il nodo qui mi ha dato un node list che avrà due elementi ok e vabbè il prototype facciamo finta di non vederlo per ora diciamo appunto quello di cui non parleremo diciamo è un modo di javascript per fare le classi però e appunto nel primo il div class bold e nel secondo il div class bold color ok quindi posso andare a prendere gli elementi che mi interessano e poi e poi posso posso farci quello che desidero quindi io ho una serie di metodi qui ci sono i più comuni che posso usare per navigare nell'albero del DOM quindi avete un albero pensate di dover scrivere una libreria che vi aiuta a navigare in un albero cosa date? la possibilità di scendere sui nodi figli piuttosto che andare al nodo padre piuttosto che andare ai nodi fratelli e sorelle quindi precedente qui sibling vabbè gemelli il precedente il successivo e così via quindi tutti questi metodi che vi consentono di muovervi nell'albero diciamo così comodamente gli attributi degli elementi html diventano proprietà degli oggetti DOM ok quindi li ritroviamo come proprietà e quindi li possiamo indirizzare direttamente come siamo abituati a fare in javascript punto il nome della proprietà vediamo tipo il div class bold color class ci viene proprio scomodo proprio quello che è il nome diverso non c'era un id vediamo un po' si div id fu quindi se noi andiamo a rifare quello di prima quindi eccolo lì div id fu se noi lo apriamo ci sarà un id id fu questa è una proprietà ok del nodo secondo di cosa io scrivo negli attributi spuntano queste proprietà perché vi dicevo bisogna fare attenzione viene scomodo il successivo perché adesso qui si è aperta un po' troppa roba chiudiamo perché se io ho class non ci trovo class ma ci trovo class name ok perché perché class è una parola chiave di javascript e quindi non si può usare quindi quando c'è class si chiama class name c'è una domanda sì sì queste tecniche che vediamo oggi ci servono nel prossimo laboratorio di giovedì diciamo per capire cos'è il dom e come è fatto il dom e come funziona il dom però poi noi nel corso andremo avanti cercando di astrarre da questo livello usiamo un framework che è quello che dicevamo all'inizio del corso che si chiama react che farà tutte queste operazioni per noi e noi ragioniamo su un livello più alto però diciamo che in questa lezione noi andiamo a vedere come funziona il dom e gli eventi perché se no non ci rendiamo tanto conto di cosa poi succede dentro il framework ok quindi questo è il motivo per cui stiamo vedendo queste cose è chiaro? sì ok bene quindi in realtà questa lezione è come dire un po' una lezione di transizione se vogliamo dire così noi potremmo anche non far vedere nulla di questo ok questa lezione potevamo diciamo così saltarla se diciamo se avessimo voluto però poi il dom rimaneva un disegnino su una slide e non avevate mai provato a toccare questo dom perché poi react non ce lo fa toccare lo vuole toccare lui quindi noi avremo la possibilità di fare le modifiche eccetera ma indirettamente creando i componenti ritornando i JSX però dobbiamo essere in grado di capire bene i nodi gli attributi eccetera che cosa sono gli eventi come gestire gli eventi perché poi gli event handler anche in react dobbiamo scriverli c'è un'altra domanda che su chrome non? non ritorni niente quando fa le prove proviamo non so dipende sì diciamo che la parte della console diciamo queste parti di debug non è che sono state standardizzate diciamo ogni browser copia gli altri e non è che c'è proprio uno stand però possiamo fare una prova home vediamo un po' corso 23 così a naso avrebbe da dire di no ma non si sa mai quindi qui negli elements anzi negli elements abbiamo i nostri div facciamo un po' più grosso un po' troppo e nella console document io preferisco personalmente usare firefox mi sembra che in tutti questi anni sia la cosa che funziona meglio però di per sé anche chrome anche safari diciamo non l'ho mai tanto provato però dovrebbe essere abbastanza uguale sì non dà il valore di ritorno non ci scrive il valore di ritorno firefox ci tiene a farci sapere qual è il valore di ritorno della funzione ok però l'elemento ce l'abbiamo nel senso che se io scrivo let let no scusate però forse ho sbagliato nel senso che lei mi aveva chiesto una cosa diversa non ritornava quando facevo il console log ah non viene fuori niente no dal get element by id e da questi metodi deve venire fuori qualcosa se io se io scrivo una cosa diversa può darsi che non venga fuori nel senso se metto fu bar no perché cosa che ho fatto document get element by id fu bar no ecco viene null se non lo trova avrà una sua risposta è null ok quindi qualcosa mi deve ritorno mi deve dire ho chiamato una funzione deve esserci un valore ritorno al più in javascript c'è undefined quindi un valore ritorno deve essere cioè pensavo no pensavo prima al console log console log chissà com'è no anche qui si comporta come firefox quindi no e qual è sì qui non non me lo apre nel senso firefox è carino mi dà la possibilità di navigare l'oggetto questo non me lo dà ogni browser fa quello che vuole in questo senso no ok ah no qui sopra avevo incollato questo pezzo mi sa di troppo quindi non so se magari nell'intervallo diamo un'occhiata se c'è qualche malfunzionamento però in linea di massima dovrebbe funzionare così come vi ho fatto vedere sul qui con l'esempio ok questo vale per tutti i tag ovviamente ogni tag ha il suo modo di mettere a disposizione le proprietà ogni tag ha delle proprietà particolari per esempio che so se una checkbox ci sarà una proprietà apposta che ci dice se è checked o no e se è un oggetto qualsiasi c'è un elemento qualsiasi ci sarà le proprietà standard e basta ok quindi ci sono tutta una serie di metodi a disposizione sui vari elementi che ci consentono di andare a esplorare quindi testare che cosa c'è dentro il DOM e andare a modificare il DOM ok quindi è inutile che facciamo l'elenco del telefono qui quando ne avete bisogno provate e quindi attributi match eccetera ecco noi possiamo creare elementi nuovi da codice quindi questa è già una cosa molto interessante infatti noi ci soffermiamo solo su queste cose perché riteniamo più interessanti possiamo creare elementi HTML quindi dei tag o possiamo creare elementi testo che erano diciamo una categoria un po' diversa e li possiamo creare e mettere nell'albero del DOM ok quindi possiamo farlo da codice questo apre una marea di possibilità cioè ci apre da codice la possibilità di far comparire cose che non esistevano e non abbiamo scritto nel codice HTML ok quindi ci apre veramente la possibilità di creare qualcosa diciamo così dal nulla come facciamo appunto c'è il metodo del document oppure possiamo anche usare no ma dopo c'è forse vabbè possiamo anche scrivere del codice HTML direttamente ma leggermente diversa la cosa quindi noi creiamo l'elemento occhio che nel momento in cui l'abbiamo creato è un riferimento a un oggetto nella memoria non sta nel DOM c'è l'albero e c'è il nostro oggetto se vogliamo che entri nel DOM bisogna dirglielo bisogna attaccarlo da qualche parte nell'albero del DOM e noi dobbiamo decidere dove attaccarlo quindi se l'attacco che so a un TD una tabella comparirà in quella casella della tabella se l'attacco se è compatibile no se l'attacco nel body comparirà a seconda del metodo all'inizio alla fine e così via no il metodo più comune che si usa append child quindi metti un nuovo figlio all'elemento che mi interessa come se fosse il body viene inserito in fondo ai tag del body quindi figli del body a livello 1 facciamo una prova intanto abbiamo il documento caricato quindi create element div e si prendiamo questo pezzettino di codice quindi io adesso lo faccio create element div quindi copia quindi ok lo sto facendo nel browser nella console non lo sto facendo in visual studio code nel codice html lì è facile scrivo un po' di codice html ricarico la pagina ma non ho modificato il dom ho fatto un nuovo html e l'ho fatto ricaricare al browser è una cosa diversa io qui lo faccio qui dentro quindi quindi let div document create element div va bene e adesso questo div non c'è da nessuna parte se non nella memoria di javascript ok faccio div cos'era inner text quindi questa è una maniera diciamo più rapida di creare un elemento testo e attaccarlo al div quindi posso per il testo diciamo è la cosa più più facile cosa scrivo hi there ok va bene ciao 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 ok di nuovo questo è solo un div nella memoria che adesso dentro ha scritto ciao ma non compare da nessuna parte c'è l'albero del dom e c'è questo questo riferimento questo oggetto nella memoria se voglio che vada nel dom devo metterlo nel dom quindi document potrei fare get element by cos'era by name body oppure il document mi mette già a disposizione come proprietà tutti gli elementi html che ha a livello inferiore quindi in document ci trovo body ok quindi body append child quello che avevamo visto prima e div ok adesso do invio e questo elemento div viene attaccato all'albero del dom quindi sono fatto tutto bene mi è comparso lassù ciao ok quindi nell'albero del dom ho messo qualcosa creato da me nel codice dal nulla cioè dal nulla tramite il metodo del documento però creato da codice che non esisteva nell'html gli ho dato le proprietà che volevo qui non ho dato nessuna attributo per far prima ho messo il contenuto che volevo dentro il div quindi questo è un div scusate andate andiamo a vedere come fare questo è un div con scritto detto ciao quindi l'inner text è ciò che c'è tra il tag aperto e chiuso che viene messo nell'albero del dom quindi in fondo come ultimo figlio di body no prima c'era questo script che in realtà forse potremmo anche tirar via delle slide non fa niente però diciamo non ha alcun effetto particolare e questo me lo ritrovo è andato nell'albero del dom come lo metto lo tolgo adesso dobbiamo andare a cercare qual è il metodo per togliere onestamente non me lo ricordo più però cioè dobbiamo andare a cercarlo quindi la cosa migliore se lo volevamo togliere sarebbe stato di avere un id o qualcosa col quale lo agganciamo get element by id e poi facciamo remove ci sarà un qualche metodo remove per togliere ok quindi siamo pieni di questi metodi sui nodi che appunto io direi vi guardate con calma nel laboratorio giovedì quando ne avete bisogno tanto inutile come l'elenco del telefono diciamo possiamo fare un po' di tutto da mettere all'inizio del livello corrente all'inizio alla fine del livello corrente piuttosto che al livello padre e così via rimpiazzare va bene ok quando abbiamo bisogno andiamo a cercarceli qui sulle slide dovreste trovare i principali quindi non dovreste aver bisogno di cercare più di tanto però diciamo c'è sempre la possibilità di andare a cercare sulla documentazione ufficiale ecco io vi invito magari fate attenzione dove cercate le cose le provate se vi sembra ragionevole vabbè se no andate sulla documentazione ufficiale è sull'MDN o qualcosa diciamo di un po' ben fatto ecco ok noi abbiamo visto Inartext si può anche usare InrHTML che è una cosa interessante perché perché ogni tanto è un po' scomodo creare ogni singolo nodo metterci dentro il testo appenderlo al nodo padre eccetera se devo creare una struttura complicata può venire scomodo esiste questa proprietà InrHTML da usarsi direi con cautela in cui potete scrivere direttamente il codice HTML che viene preso letto dal browser trasformato in elementi del DOM e quindi portato dentro l'albero del DOM ok quindi il browser farà il parsing del contenuto e lo converte in nodi DOM attributi eccetera tutto quello che è necessario ok quindi devo scrivere un frammento HTML qualcosa che sia valido in HTML perché dicevo con cautela perché poi se non mettete a posto minore maggiore lasciate il tag aperto eccetera chissà cosa succede se invece fate un create node c'è un node è fatto è fatto dal browser è fatto bene e non ci sarà mai che vi siete scordati di chiudere il tag aperto e così via ok e poi e poi si può si può va bene ci sono altri metodi per inserire direttamente l'HTML eccetera però diciamo facciamo una prova una volta almeno con l'innerHTML quindi diciamo che io nell'elemento di prima che avevo messo let div div esiste ancora ce l'ho ancora questo div ho ancora riferimento al div div innerHTML uguale virgolette p e questo è un paragrafo ok mi è sputtato questo paragrafo e il p e il p non è rimasta una stringa se io vado a vedere come è fatto adesso è venuto fuori un tag quindi è stato parsificato al browser è stato trasformato in un tag HTML quindi in un nodo non attributi in questo caso che ha come figlio un testo che è quello che ho scritto ok bene quindi può essere utile e avete visto live diciamo dal vivo l'utilità di questa cosa anche qui pieno di metodi per inserire prima dopo in mezzo eccetera eccetera inutile che stiamo lì a guardare ci sono anche i clone deep o no quindi ricorsivi o no quindi clonano solo il nodo o il nodo con tutto quello che ci sta sotto ecco vale la pena di spendere due parole in più su alcune proprietà anzi in particolare questa class list perché la class list ci dà accesso alla proprietà anzi l'attributo class del nodo che è quello che ci serve per lo stile potreste anche prendere e leggere la stringa del class che si chiama class name abbiamo visto prima perché class è una parola chiave di javascript quindi class name lavorarvela per conto vostro e rimetterla visto che però è così comune lavorare sull'attributo class ci danno a disposizione dei metodi quindi possiamo fare add, remove addirittura toggle nel senso se esiste lo toglie se non c'è lo mette per esempio per far attivare o disattivare o qualcosa che so mettendoci la class active si colora e se la tolgo non si diciamo torna il colore di default e così via oppure va bene dei metodi per cercare eccetera quindi occhio solo che la proprietà si chiama class name ma c'è anche questa proprietà class list che ci dà a disposizione dei metodi add, remove eccetera per evitare di andare a manipolare noi direttamente la stringa del class ok quindi se vogliamo aggiungere una classe come avete fatto lo scorso laboratorio avete messo tante classi no? quelle di bootstrap su alcuni elementi perché vi veniva comodo perché non so una dava la dimensione l'altra dava il colore l'altra dava qualcos'altro ok queste ci consentono di fare questa operazione vabbè diciamo che questo lo lascerei come lettura avete a disposizione tutte le classi diciamo per quanto riguarda lo stile eccetera però siccome dicevamo prima questa lezione sostanzialmente ci fa vedere che esiste il DOM esiste la possibilità di manipolare il DOM con i suoi attributi anche di lavorare sul CSS quindi possiamo anche lavorare sul CSS però poi effettivamente nel corso non lo faremo perché non vogliamo lavorare a un livello così basso diventiamo matti a scriverci insert ad accent html piuttosto che append child create node e così via diventiamo matti se è una pagina un po' più complicata quindi questa cosa non la faremo ma la usiamo solo per capire la prima volta come funziona tutto il meccanismo ok quindi in cui stiamo con gli event io direi che facciamo facciamo un esempio quindi facciamo un class list dai così però cominciamo già a imbastire visto che abbiamo ancora un attimo di tempo sono stato abbastanza veloce a imbastire quello che andremo a fare nella seconda parte della mattinata io vi ho messo online come sempre ieri tardi un esercizio che è quello che andremo a fare cioè ma è sempre il solito esercizio prendiamo quanto fatto nelle scorse lezioni quindi l'html che abbiamo messo più o meno a posto nella scorsa lezione col CSS di bootstrap e andiamo a renderlo dinamico oggi con il javascript ok quindi allora io parto da un qualcosa questo esempio non serve a nulla ma io vi parto parto da un qua no base era mi sembra quindi sostanzialmente questo è quello a cui siamo arrivati l'altra volta forse non esattamente leggermente modificato ecco tra l'altro l'altra volta mi scuso che c'era un div chiuso due volte che io non avevo visto nel codice quindi in realtà appunto il browser sono molto tolleranti a queste cose però se le vediamo cerchiamo di metterle a posto poi comunque in react queste cose ci vengono tutte segnalate per cui non ci sbaglieremo mai a lasciare dei tag aperti chiusi perché ci ferma prima comunque questa è la pagina dell'altra volta con tutto il contenuto statico col bootstrap inserito quindi facciamo che andarla a vedere qua base poi faccio il commit quindi prendiamo quick 05 ok dove sono finiti i nodi e tutto quanto della pagina esempio tutto sparito nel momento in cui io cambio pagina il browser prende butta via tutto libera la memoria carica una nuova pagina nuova pagina nuovo ambiente nuovo dom nuovo tutto ok va bene questa è la pagina come vedete ha uno stile ragionevole abbiamo caricato questo bootstrap l'abbiamo messo in fondo ecco la prima cosa che potremmo fare è dire visto che appunto c'era chi diceva ma che scomodo questo script in fondo eccetera portiamolo sopra portiamolo sopra ma per portarlo sopra lo portiamo sopra e ci mettiamo il ricordate ancora cosa dobbiamo metterci oppla no mi si è mi si è tolto dal copia e incolla no f come si fa i ok se lo mettiamo qui lo mettiamo col defer quello che abbiamo visto stamattina quindi salvo ricarico la pagina per provare ricarico sempre la pagina ok c'è qualcosa che non va cosa c'è che non va script defer no dovremmo andare perché perché c'è sta cosa ho salvato non avevo salvato ok l'errore più comune è banale no ok quindi adesso guardiamoci solo che ci sia quello lì si c'è script defer quindi è la stessa pagina funziona come abbiamo detto prima mentre il parsing della pagina avviene quindi il browser si legge tutto l'html eccetera intanto va in rete perché questo è un url di rete e va a scaricarsi la libreria di bootstrap il 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 js di bootstrap lo lo carica e lo esegue al termine del caricamento dell'html dicevamo impostiamo qualcosina solo cosa possiamo fare proviamo a togliere add ramu possiamo vediamo un po' il codice cosa possiamo fare c'è una classe togliamo class table giusto per vedere cosa succede ma è proprio una cosa per fare una cosa rapida quindi document get element by oh faccio by name eh qui ho solo una table e prendo la table ok no però get elements by name eh elements mi restituisce sempre una lista quindi se voglio la prima devo fare indice zero ok poi vediamo cosa no perché non viene fuori eh by no dove non ho the list quindi not list ah zero t eh dice name ah tag name si si come sulle slide quindi torniamo indietro by tag name grazie lo so che siete io confido sempre in voi tutti gli anni tag name no tag name o html vabbè html collection diciamo zero o la nostra class table grazie eh perfetto quindi questa potremmo usarla così assegnare un riferimento eccetera se no come facciamo sempre in javascript andiamo avanti sperando che non ci siano errori eh e qui volevo fare remove quindi class list remove dove è class list punto remove table no sembra che la classe fosse table si ho messo class table quindi sto rimuovendo questo class table boh e mi torna a table diciamo con la formattazione e lo stile di default del browser ho tolto il class table dal eh degli attributi del tag table quindi se io vado a vederlo tra l'altro qui si aggiorna eh non nella pagina originale chiaramente visual studio code è un file quello resta uguale però nel browser che mi da la visualizzazione corrente se io vado a cercare la table è sparito class vuoto ok se voglio rimuovere l'attributo dovrò rimuovere l'attributo è un altro metodo però diciamo questa era solo una prova per far vedere qualcosa se andavo a togliere row, column eccetera mi si rovinava tutto il layout e di solito appunto lo uso per togliere e mettere classi per far cambiare l'aspetto di qualcosa tipo attivare disattivare e così via ok facciamo un'ultimissima cosa dai che poi facciamo finisce che facciamo una pausa lunga portiamo dentro un nostro script così lo imbastiamo per dopo dove lo mettiamo oramai abbiamo imparato il nostro script lo mettiamo qui src uguale cosa come lo chiamiamo qascript js lo carichiamo con il defer anche noi tutti i nostri script va benissimo caricare con il defer tipicamente i nostri script li carichiamo dopo che i javascript delle varie librerie hanno agito e quindi lo mettiamo per ultimo nella lista degli script dell'head con il defer e poi e poi dobbiamo crearlo e quindi qascript e noi detto il qascript use strict strict possiamo scrivere tutto quello che vogliamo noi quello che abbiamo scritto prima document cos'era get elements by tag name table se riscriviamo la stessa cosa di prima lo possiamo fare da codice anziché dalla nostra console class list dunque cos'era remove table poi lo butteremo via quindi io adesso ricarico la pagina vediamo se ho salvato si no ho salvato cosa che non ho salvato script script l'ho salvato qabase l'ho salvato qascript dovrebbe andare vediamo se qabase si allora faccio reload dovrebbe sparire si ma è sparito no no non l'ha messo eh com'è dovrebbe essere non l'ha messo non l'ha messo si quindi questo class table l'ha fatto sparire giusto ok quindi lui in realtà l'ha caricato l'ha messo nell'albero del dom ha subito eseguito il nostro codice javascript che l'ha tolto ok ma giusto perché così abbiamo caricato il codice javascript da file e abbiamo eseguito qualcosa facciamo ancora l'ultima controprova quindi lo commentiamo ok se lo scommentiamo succede qualcosa quindi abbiamo eseguito del nostro codice caricato da file dentro browser che ha modificato il dom ok nella seconda parte della lezione facciamo poi qualcosa di più interessante eh quindi andiamo a fare delle modifiche un po' più significativi andiamo a gestire degli eventi andiamo a fare qualcosa che vi serva per rendere un pochino più dinamiche queste interfacce ok allora io farei pausa qui se non ci sono dubbi o domande sembra di no